Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di giovedì 14 luglio. Sono le 11 in punto e parliamo come al solito di cosa può succedere al prezzo di bitcoin con l'evoluta. Un metodo statistico-matematico non discrezionale, quindi che non dipende dalle mie capacità, ma dal fatto di osservare che cosa succede attraverso regole relative a tempi, swing, volumi. Il tempo peraltro è una di quelle cose che in ben pochi formati sanno utilizzare e utilizzare a proprio piacimento. Vi faccio un esempio semplice da comprendere. Prendiamo un trend ribassista. Eccoci qua, trend ribassista. Duplichiamo questa freccia, creiamo proprio il canale. Perfetto. Noi non sapremo mai, uno, se partiamo da qui, quanto durerà il canale se utilizziamo l'analisi tecnica. La seconda cosa che non possiamo sapere con la mera analisi tecnica è quando passeremo dalla parte inferiore del canale alla parte superiore. Se non torneremo sull'inferiore, non torneremo sulla superiore, facendo una finta rialza, ma poi ritorneremo sull'inferiore. Queste sono tutte cose che con la semplice analisi tecnica non possiamo sapere. Invece, se abbiamo un quadro più completo, con l'evoluta possiamo. L'esempio è molto semplice. Partiamo da qui. Nono, ti meno, tra l'altro non segnato in rosso, adesso devo rimetterlo a posto. Violazione entro, anzi, prima delle 24 barre di questo minimo. Sappiamo che c'è una buona possibilità che se non c'è un rimbalzo di un certo tipo, con una certa durata, con la violazione di uno swing, si può continuare a scendere. E infatti si continua a scendere. Sappiamo quanto dura in media e al minimo e massimo una discesa. Qui siamo arrivati a 38 barre su 43 massime. Sappiamo che quando la discesa si interrompe si può provare a ritornare verso la parte alta del canale. Ma se si torna a violare questo minimo si continua a scendere per un tot di tempo. Quindi, di nuovo, per quanto tempo? E qui siamo arrivati esattamente a 43 barre su 44. Molto diverso, vero? Quando si governa il tempo, cambia tutto il discorso e con l'evoluta è possibile. Perché sappiamo tempistiche e vincoli che ci permettono di capire se si andrà su verso la parte alta e per quanto tempo, perché non abbiamo parlato neanche dell'inverso, tra l'altro. Oppure, se si procederà a scendere. Quindi, questo è un vantaggio competitivo grande o piccolo secondo voi? A voi la risposta. Seconda cosa, quando si interromperà il trend? Perché un trend ribassista può durare pochissimo, poi in realtà può già rompere qui e andare su. Chi è che ci dice quanto può durare? Non l'analisi tecnica, di nuovo l'evoluta. Se qui è partito un t settimanale, si può arrivare a 11t-3. Qui in realtà abbiamo aggiunto ancora un raccordo che è perfettamente all'interno delle regole. Tra un t più 1 e un t più 1 ci può essere un sottociclo di 3 gradi inferiori. Quindi, t più 1-3 fa t meno 2. T meno 2 è uguale a 2 giorni. Minima durata 24 barre per giornaliero. E noi ne abbiamo 48. L'abbiamo visto ieri. Rifacciamolo bene. Ok, ce la possiamo fare. Oggi giornata complessa. Eccoci qua. Guardate, 48 misurate. Per cui, so che non solo si può arrivare fino a qui, ma eventualmente anche con un raccordo un pochino più in giù. Se da qui parte un t inverso, un settimanale inverso, che parte da massimi, sviluppa minimi e torna su massimi, mi fa una U, come dico sempre, per illustrare che cos'è un inverso, perché sennò la parola non aiuta a capire che cosa sia. E noi sappiamo che da qui parte non soltanto un t settimanale, ma pure un t più 1 inverso. Qualcuno vi ha fatto vedere questo swing? Quello a 19.287 dollari? Vi ha detto che da qui non soltanto passava il t inverso, ma anche un t più 1 inverso? Comprendete la valenza di che cosa significa dirvi che da qui questa violazione ci dice che parte anche un bisettimanale d'inverso? Primo settimanale? E poi partirà nei tempi corretti il secondo settimanale? Perché se nessuno ve l'ha detto, nessuno vi sa raccontare che cosa sta per succedere. Certo, ci sono dei momenti in cui non è semplice comprendere l'andamento. E questo è uno di quelli, eh. Perché, a parte, come detto, chiusura potenziale di annuale qui, ripetiamola in continuazione, partenza di non sappiamo ancora che cosa, ma è molto probabile una cosa. Per ora non sembra un annuale, non abbiamo nessuna conferma di un annuale, quindi. Anche in questo caso sappiamo quanto tempo può trascorrere prima della partenza di un vero annuale. Abbiamo l'inverso che ci fa da controcampo e ci dice quanto al massimo può durare un secondo semestrale inverso. Quanto? 168 giorni, e siamo solo a 108, abbiamo 60 giorni, due mesi di potenziale tentativo di rimbalzo. Scomponendo i cicli abbiamo altre informazioni. Facciamo proprio quello, andiamo a scomporre ancora i cicli. Questo che è un semestrale di inverso, si compone di primo mensile inverso, secondo mensile inverso, terzo mensile inverso, o terzo mensile inverso, dobbiamo ancora vedere. Per adesso, anzi, scopriamo molto rapidamente quale delle due è centratura corretta, con una facilità estrema, per cui io non punto su nessuna delle due. Non mi interessa parlare di cose che in questo momento non possono essere determinate in modo univoco. Non do opinioni. Perché? Perché sennò rischio di fare figuracce, o di non essere più obiettivo, come invece è giusto che sia, in quanto analista quantitativo. Dato che qui, né con questo minimo più profondo, né con questo secondo meno profondo, siamo andati a violare la partenza di un T più 2 inverso, ma possiamo essere ancora su un mensile inverso? 45 barre no. Serenamente no. O ha chiuso qui a 38, o ha chiuso qui. Sempre tempo, eh? Non so se notate. Lo swing è stato... dove è stato violato il swing per la partenza di un T più 2 inverso? Da nessuna parte. Quindi può essere sia qui che qui la partenza. Ma come faremo a sapere quale delle due partenze è corretta? È la cosa più semplice del mondo, rifletteteci. Vi do tre secondi e li conto. Ci siete arrivati? Avete ancora bisogno di qualche secondo? È la cosa più semplice del mondo. Basta sempre ragionare. Più semplice del mondo quando lo fate tutti i giorni da tanti anni. Lo capisco. Per me è un automatismo guardare e vedere certe cose. È giusto che se si parte dall'inizio ci sia qualcuno che illustri che cosa vede un analista valido. Che cosa vediamo? Vediamo che se il T più 2 inverso fosse partito da questo massimo e avesse fatto questo percorso si sarebbe già completamente vincolato a continuare a salire a cercare un massimo. perché questo massimo è a 22.425 ed è superiore a quello da cui è partito teoricamente il T più 2 inverso. Quindi se continueremo a trovare i massimi sarà molto probabile che sia partito da qui secondo il nuovo mensile inverso e non da qui. Se invece non continueremo a trovare i massimi a quel punto invece sarà più probabile che sia partito da qui e se chiudesse e iniziasse a scendere e ne avremmo una certezza soprattutto in violazione di questo minimo a 17.605 sarebbe estremamente probabile che in realtà il nuovo mensile inverso sia partito da qui perché non avrebbe il vincolo a continuare a salire come prezzi. Quindi noi tra poco risolviamo. Risolviamo che cosa? Risolviamo un discorso fatto di lateralità che sta diventando abbastanza fastidioso lateralità compresa sostanzialmente tra i 18.910 dollari e i 21.578 se non andiamo a guardare le spike. Stiamo continuando a fare come una pallina ping 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 ok vogliamo decidere dove usciamo? Come facciamo a sapere dove usciremo? Anche in questo caso ci eviteremo dei break out che sono molto pericolosi l'ingresso su un break out è pericolosissimo perché è pericoloso? Perché ha il 50% di possibilità di portare a un gain o una perdita ma anche in questo caso rispetto all'analisi tecnica che porta a questo risultato 50-50 e noi abbiamo il tempo se andremo a fare un break out in undicesima barra da questo massimo andremo a rompere il massimo stesso in undicesima barra così senza possibilità di una centratura alternativa ma col cavolo che andremo long perché? perché avremmo esaurito il tempo per il settimanale e dopo che si esaurisce il tempo per un settimanale ne parte un altro di inverso e quindi non asseconderemo il break out andremo invece a shortare tenendo presente di nuovo se ci possono essere degli allungamenti dati da un raccordo e stanno iniziando a dare un po' fastidio anche su S&P 500 questi raccordi ma lo fanno per fare delle finte per i trader per buttarli fuori dal mercato per cui ci provano in tutti i modi a farci a farci del male e se non avete un metodo l'unica cosa che rischiate è di farvi estremamente male perché cadrete in balia delle emozioni e se entrate nel turbine delle emozioni è finita senza un metodo cadrete in cose come revenge trading penserete che il mercato ce l'ha con voi che bitcoin vi rema conto che ci siano dei poteri occulti che non lo so vi inventerete delle robe che non hanno alcun senso perché siete talmente piccoli insieme a noi siamo tutti talmente piccoli rispetto a chi ha i soldi per muovere un HFT che non esistiamo quando entriamo al mercato non influenziamo neanche minimamente dove andrà la criptovaluta siamo troppo piccoli ok per cui anche in questo caso a breve finalmente avremo una risposta dove si va perché se si andrà qui sopra sopra 22.425 nel tempo comunque corretto continuiamo a vincolarci a salire partirà finalmente l'annuale se invece chiuso questo settimanale e qui abbiamo già la condizione sufficiente per la chiusura del settimanale stesso 7 bar ok anche del B settimanale tra l'altro ve lo dico per sicurezza presoci il tempo se invece iniziassimo a scendere vertiginosamente e vertiginosamente adesso lo dico meglio e iniziassimo e iniziassimo ad andare sotto i 18.912 non solo se la consecucia del tempo c'è oppure no è stata una giornata estremamente sfidante mettiamola così ok piena di tante opportunità e chi mi conosce sa che valenza la parola opportunità per me comunque ritorniamo a noi se chiuso non ti inverso torneremo qui sotto invece all'arme rosso perché se torneremo sotto 18.912 sarà molto probabile ritornare in questa area qua quindi o uno o l'altro ciò significa che se non volete prendere posizione nei confronti di una salita di una discesa o non siete sicuri o altro o non conoscete ancora la valenza dell'evoluta per cui dice sì ma sta dicendo che o si sale o si scende no assolutamente no non sto dicendo questo è molto differente la cosa fate una roba aspettate è quello che stiamo facendo noi stiamo aspettando lo so è il compito più difficile di un trader o di un odler aspettare e vorremmo fare operazioni in continuazione vorremmo potenzialmente guadagnare tutti i giorni però come nel caso di oggi dopo un movimento violento come questo dato da un dato che poi è stato completamente rimangiato prima di dire ok sì sì questo è tutto un settimo t-3 inverso e poi si tornerà a salire preferisco aspettare un attimo ok e quando la violazione è arrivata è arrivata dopo la ventiquattresima barra quindi addio ok eccola qua 38 peraltro c'è stata violazione poi discesa tu dici no non entro più l'angolo giusto però si è continuato a salire quindi ribadiamo un concetto semplice quanto difficile da da mandare giù per chi pensa ancora come il parco buoi dato sull'inflazione guardate come è diventato piccolo rispetto a tutto il resto tutte le altre candele soprattutto questi due queste verdi ok guardate quante verdi quasi lunghe come quello dato sull'inflazione eccolo qua candela che include quella di quando è uscito il dato alle 14.30 ha influito sui cicli ribadiamolo di nuovo questa sera no l'accordo di grado t-2 tra due t più 1 ovvero di due giorni tra un bisettimanale e il nuovo quindi ha cambiato qualcosa nella nostra storia assolutamente no anzi ci ha aiutato ad andare a chiudere il t più 1 e far partire eventualmente un secondo t più 1 seconda cosa se influisce così tanto anche su una criptovaluta che non c'entra niente con l'inflazione ok mi spiegate perché siamo andati sopra i livelli da cui è partita questa candela rossa perché se è una qualche influenza se se avesse mai una qualche influenza dovremmo andare giù no invece stiamo andando su e quindi quanto contano le notizie nel trading perché se andate a googlare sul canale sul canale del circolo virtuoso su questo canale di youtube e andate a vedere news scrivete news o altro troverete una quantità infinita di dimostrazioni nei fatti non opinioni che le notizie hanno effetto sui mercati temporaneamente nel brevissimo periodo ma che non cambiano quello che ci aspettiamo con l'evoluta non lo cambiano qui aspettavamo la partenza di un settimanale al massimo poteva allungare di due giorni cosa è successo? allungato di due giorni e poi siamo saliti punto non è un'opinione ok è un dato di fatto e va preso così com'è se no ribadisco si può rimanere sereno nel parco buoi versi tutto ciò che viene raccontato da gente che non ne sa nulla per alto di borsa ok e che tutti i giorni però parla un po' come succede su youtube allora ritorniamo noi da questo minimo a questo massimo continuiamo a salire e scenda ok qui non siamo andati a violare fortunatamente ma avrebbe fatto lo stesso a questo punto questo minimo adesso siamo ritornati sopra il 50% di ritracciamento ok di questa discesa siamo ritornati a guadagnare la metà in molto poco tempo rispetto a quanto invece siamo scesi ok altra cosa abbiamo la media mobile più rapida quella in rosso che vuole girarsi andare a uncinare verso l'alto e se lo farà rispetto a quella più lenta a 200 periodi in blu andremo in golden cross se non sapete che cos'è un golden cross fate come facevo io quando era all'inizio degli studi o andate a cercare su un dizionario economico che cosa significa e io facevo quello oppure usate google qualsiasi termine che non vi sia noto esiste un motore di ricerca che è anche alternativo a quello americano che vi può dire di che cosa sto parlando anche così ci si forma partendo per esempio dal candele googlando cos'è una doji definizione di doji definizione di hanging man definizione di tutto quello che volete così ci si forma chi fa da sé fa per tre impara più rapidamente degli altri guadagna arriva a guadagnare scientemente prima degli altri questo non è un canale di segnali se venite per avere dei segnali se venite a fare la domandina si sale o si scende io non vi rispondo perché non vi do il pesce vi insegno a pescare non volete imparare a pescare cambiate canale i social youtube sono pieni di fuffa di gente che parla della qualunque senza avere nessuna competenza in merito lo vedevamo a novembre quando dicevano 95.000 e invece si è andati giù come dicevo io anzi come diceva un piccolo swing dell'evoluta lo swing di un animale inverso che stonava tanto rispetto al quadro che c'eravamo fatti notata quella stonatura abbiamo continuato a guadagnare con gli short dal 14 16 novembre potete andare a vedere i video sono tutti qua ritornando a noi ok qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente su questo massimo per la chiusura del settimanale inverso quindi può partire serenamente un nuovo settimanale inverso e continuare a vincolarsi a salire per cui che cosa facciamo anche qui in questo caso prima di tutto andiamo a ragionare sugli swing essendo estremamente gentile anche per chi gratuitamente non mette i like ok sotto i video vi dico che abbiamo già violato lo swing per la partenza di un nuovo ciclo t-1 ovvero un ciclo che dura in media 4 giorni e noi siamo al primo giorno e mezzo non abbiamo violato lo swing per un t settimanale però ragazzi fatto un b settimanale che si è chiuso qui con la condizione necessaria e sufficiente con un raccordo in aggiunta eccetera da qui parto un settimanale è vero che non abbiamo violato lo swing però ecco lo swing è un po' più in su d'accordo quindi come opereremo da questo momento in avanti ricordatevi che sono a 21 minuti e 45 secondi di quello che è un webinar in realtà questa è tutta formazione gratuita che do ok quando operiamo nel premium tutti i ragionamenti che faccio sono formazione per chi vuole diventare pescatore alcune persone non lo capiscono chi invece segue i ragionamenti perché non cerca segnali dice caspita interessante sta roba e che cosa fa migliora nel trading migliora nei nelle riflessioni che fa perché riceve delle informazioni senza opinioni e valuta che cosa farà quindi noi cosa faremo faremo una cosa semplice metteremo un allarme sopra i 21.026 dollari perché se dopo una due abbiamo fatto una due tre se tra se dopo oltre due candele da 45 minuti che rimarranno qui sotto avremmo una risalita prima della 24esima candela sopra questo massimo andremo a long altrimenti aspetteremo aspetteremo anche di vedere se riusciremo a rimanere sopra il 50% del ritracciamento fatto se riusciremo a rimanere sopra la media mobile di lungo periodo e che cosa succederà a quella in rosso di breve se andremo in golden cross oppure no e dovremo avere quella dote che ormai in pochi anni e che io nel tempo facendo una fatica mostruosa grazie anche a tante persone attorno a me che non mi hanno creato dei problemi ma mi hanno dato dell'opportunità per migliorare serve per fare trading ovvero la pazienza la pazienza è la virtù dei forti aspetto a muovermi solo ed esclusivamente quando ho garanzie di poter ragionevolmente guadagnare sia facendo un trade nel trend principale che può essere in sviluppo quindi pro trend rispetto alla visione che ho e sia soprattutto quando ci sono le condizioni di swing e tutto il resto mi fermo perché ho sforato i 24 minuti ed è veramente troppo ok penso che ci metterà un sacco a caricare questo video i controlli dureranno ancora di più quindi chi lo sa se andremo se arriverà oltre la mezzanotte il punto focale ormai l'avete compreso è questo qua è questo massimo qua e ribadisco al 50% può andare da una parte o dall'altra per ora non avendo violato swing propendo di più per un discorso di raccordo ma bisogna vedere attendo conferme perché basta un HFT che ci spari qua sopra cambia radicalmente la faccenda ok vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata se volete ricevere degli appunti gratuiti per iniziare a comprendere che cosa sia questa evoluta partendo dalla ciclica base scrivete a info chiocciola financialarmo punto e u come al solito trovate questo indirizzo sotto tutti i video ormai praticamente nei commenti non me lo chiedete più per favore chi fa da se fa per tre come detto mettete anche un bel like se ritenete che abbia senso premiate qualcuno che lavora oltre le 23 e 25 della sera partendo dalle 8 e mezza della mattina altrimenti fa lo stesso me ne sono già fatto una ragione sono abituato a dare e a non chiedere indietro è meglio dare che chiedere sempre buona serata a tutti arrivederci